Secondo voi, perché le pelicerie MEC hanno tanto successo? Perché un bisone come questo costa meno di 4 milioni. Sì, avete sentito bene. Meno di 4 milioni. Sono tutte felice bellissime, morbide, leggere, anche se a prezzi incredibili. Ve lo garantisce Silva Coscin. Pelicerie MEC a Milano, Torino, Rimini, Cless, Trento. Grazie.